In Slovenia la Messa di Mezzanotte è stata ufficiata in tutte le principali località. Tradizionale appuntamento con i fedeli nella cattedrale di San Nicola Ljubljana per l'Arcivescovo Stanislausoré, che nel suo messaggio ha invitato i fedeli ad accogliere Gesù nei propri cuori. Cristo non è venuto al mondo per annientare le tenebre, bensì per illuminarle, dando la possibilità alle tenebre di trasformarsi in luce. La nascita di Gesù ha portato la luce nel mondo, ma nonostante ciò c'è ancora molta oscurità. Dalla chiesa evangelica Primo Strubar di Ljubljana, il vescovo Gesafilo, nel messaggio ai fedeli, ha sottolineato che il Natale è una festa di grande riconciliazione tra Dio e l'uomo, nonché tra Dio e il mondo. La gioia e la speranza, non l'ansia, siano la strada da percorrere per ogni cristiano, ha detto. A Zeglie la messa di mezzanotte è stata ufficiata dal vescovo Maximilian Matthias. Rivolgendosi ai fedeli, ha sottolineato che Gesù non ci vuole perfetti ma sinceri, che non ha bisogno di tante nostre parole, ma della sincerità dei nostri cuori. A Betlemme la messa di mezzanotte, alla quale ha partecipato anche il presidente palestinese Abu Mazen, è stata ufficiata dal patriarca di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, nella chiesa di Santa Caterina. Ha posto in evidenza la crescente violenza del linguaggio della politica di Israele, sostenendo che si rischia di rompere il già fragile equilibrio tra le diverse comunità religiose ed etniche. La violenza in terra santa sembra essere diventata la nostra lingua principale, il nostro modo di comunicare, ha detto il patriarca, lamentandosi del fatto che la questione palestinese non è più al centro dell'attenzione del mondo. Nonostante la religione ortodossa, quest'anno in Ucraina la messa di Natale è stata celebrata il 25 dicembre. Il vescovo di Kharkiv Zaporizhia, Monsignor Paolo Honcharuk, ha chiesto ai fedeli di non rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza umana, sottolineando che il dono della fede aiuta a sentire la presenza del Signore, pur nelle difficili condizioni in cui viva la popolazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilevato che quest'anno le festività non sono le stesse a causa della guerra. È un Natale difficile, ma non aspetteremo un miracolo, lo faremo noi, ha detto, aggiungendo che il governo ridarà la libertà a tutti gli ucraini.